Becchiamo il passario di Danie, tra l'altro, Gelman, Alessandro, uno capirso con Danie, stellare, sarà tiltato, no? E' un giro forte, sarà tiltatissimo, non è questa? Vabbè, giochiamo una partita di scacchi normale, torre C1, donna qua, G5, così lo gioca? Ma, ovvero, adesso commento su Twitch, ma è stata una grande audizione, torre G8, come si gioca così in questa posizione? Devo fare questo, no? Su questo glielo lascio fare, ma questo? Ah boh, ah boh, io lo mangio, poi, ora devo decidere se mangiare così e lasciare, no, io mangierei così, difendo questo, lascio questo temporaneamente e provo a rifarmi su D6. Vediamo, donna per, se mangia credo che possa mangiare qua, cioè cambio prima, ovviamente, poi, eh. E resta bene, ne ho otto comunque, eh. Questa è la tipica posizione dove devi sacrificare qualcosa a una certa, e non è il mio forte, eh, lo dico subito. Lui sta pensando un sacco. Cosa può fare? Può fare questa? Su questa penso di far callo G5, però permetto, non lo so. Non lo so, questa, forse questa. Questa sì, mi piace, che difendo il pedone e attacco. Sì, sì. Ok. Quindi donna E7, donna F4. Cavallo per. E mangio. Torre per. Donna qua, ora. Torre D1, raddoppio. Ecco, qua arrivano i sacrifici di cui vi parlavo, il momento in cui sicuramente ci sarà qualcosa da sacrificare, e dobbiamo azzeccare il momento, sennò perdiamo anche. Cavallo qua, direi che va bene. Beh, direi che deve andar bene. Oppure mi mangia. Pazzisco, questa è possibile, come mossa. È tutto possibile qua. L'ha fatta. L'ha fatta. Ora, torre per com'è questa? Scacco. Mangia questa? Re F8. Questa posizione qui com'è? Non lo so. Su questa cosa fa, intanto, però? Non mi è chiaro, però, eh. Presa. E comunque torre per E6 nell'aria. Cavallo E4 fa. Oddio. C'è per torre per G5. Eh, com'è difficile giocare a scacco. Ma che trucchi che tira questo, è una cosa pazzesca. Torre per, torre per. Tocchino, l'ha fatta. Donna per, però. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, è una cosa pazzesca. E' una cosa pazzesca. Torre per, torre per, donna per. Tocchino, ho trovato. Sì. Bollin. Sì. Non puoi mangiare che è inchiorato. E' un po' mangiare che è inchiorato. Dovrei, su questa faccio così. E non puo farla perché è matto. Da, non puoi mangiare così. Niente, il listo. Devo mangiare così, sono inchiorato. Fersio, posso, 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 posso fare fersio. Ragazzi, è finito malissimo. E' finito malissimo sto title. Partito bene, è finito malissimo. Mi sono dimenticato dell'inchioratura. Mi sono dimenticato dell'inchioratura. Fortunatamente ho solo una qualità in meno, non ho una torre in meno. Non, non terapia. Devo mangiare. Non, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Proviamo il miracolo. Però scaccio! Proviamo il miracolo. Too late to try. Torre 4. E' questo posso realizzare, попытarsi. E' scacco, vengo qua. Так. Corretni, corretni. Aiuto. Scacco, torno su. Torre qua. E' disastro. Disastro. Non credo di aver chance. Non credo di aver chance. Non credo di aver chance. Ma questa, torre per c5. Oddio. Taak. No, non funziona mai. C5 mangia, mangia a scacco. Pensa a te. Pensa a te. Ehm... Ehm... Quindi... Quindi... Allora, devo fare scacco. Accurati, accurati. Re qua. Torre qua. Scacco vengo qua, però, eh. Ok. Re lì. Torre qua. Vediamo. Ci proviamo fino alla fine, eh. Posso anche venire qua con il re? Mi attacca l'alfiere, devo venire dove? Qua. Qua, ma... Sta questa. Ah, continuo ad attaccarmelo, giustamente. Devo difenderlo. Scacco qua, qua. Non l'ha vista. Così. Tac. Ok, scacco. Vengo dove? Qua. Qua, quella. Scacco lo do. Devo tornare... Perso. Perso. Il finale di pedoni è straperso. Eh, sì. Accio matto, ma mi dà scacco qua. Perso. Bravo. Finito male. E' stato devastante qua con l'alfiere per G2. Non posso portarle. Non posso proprio portarle. Più che altro siamo in chiamata su Zoom. Che vuol dire che è una qualità in meno. Vuol dire che hai un alfiero, un cavallo per una torre. Questo vuol dire. Так. Dani, con chi gioca? Capì. Ti ni ha è stato anche fatto non è non è non è non è che è la dd6 è stata una gi5 ma è stata una gi5 ma poi ho pensato non è proprio è solo una g6 ma lo so è ancora la dd6 io ho avviso v3 ahaha è vero ma cosa ha perduto la finale dove è vero è vero si è andato a donna l'altro e oggi c'è c1 no ha perso tutto g4 rip ora non è l'alfiere non a casa gg che ha attaccato cosa succede qui c'è il cavallo c'è c'è il cavallo e7 e su b5 non può catturare per l'inchiolatura e se un biotto biorci via con g5 vicini siamo andati vicini in due rulliamo così entrambi e poi danny di prezzi e 3 giro di più bravissimo effetti abbiamo fatta adesso giochiamo l'ultimo per l'elo l'anno сложно здесь